Musica Maggio tempo di matrimoni e anche i negozi del centro storico di Modena sono pronti a supportare i futuri sposi. Torniamo dunque da Avery Parfum Gallery dove ci attendono tante nuove proposte per la primavera estate dedicate al grande giorno. Non solo abiti da sposa ma anche da cerimoni a quelli proposti da Creative Lab by Studio Trend. Le collezioni sono state accompagnate dai bucchi di Fridas, boutique di fiori nel cuore di Modena. Sono sei outfit che hanno sfilato, dei quali il primo è un abito da sposa che è stato realizzato dagli allievi del corso di formazione. L'abito da sposa è bianco, lavorato a intaglio completamente in maniera manuale e quindi è costruito con un lungo lavoro certosino, possiamo definirlo, di questa ragazza che poi l'ha utilizzato e l'ha creato su misura. Gli altri outfit invece sono della linea Paradisi e sono in particolare due di cui la parte superiore è ispirata allo stilema della calla, quindi si chiamano Lily Dress per questo motivo. E sono due completi in rosa e nero. Poi l'ultima parte che abbina il nero, lo coordina a un blu scurissimo, un blu notte, presenta un abito di pizzo con piccole paillette luminose e un altro abito realizzato tutto in tulle con il corpino abbinato rosa, sempre con lo stilema della calla. Nel total look da evento matrimonio non possono mancare le scarpe, sandali nude look preziosi con glitter o svaroschi in galassia rosa, oro argento, non mancano poi slim bag in vernice d'oraio in punta nera. Per chi ama usare ecco poi questo prezioso sandalo blu, c'è chi chiede, anche il rosso. Quindi sdoganiamo anche il fatto che non si possano indossare i sandali per la sposa, qui si osa. Sì sì assolutamente, noi abbiniamo spesso il sandalo sulla sposa, anche la slim bag ecco più facilmente o capitare anche il décolleté, ma il sandalo noi lo abbiniamo molto sia per la sposa che per la cerimonia in genere. Quali sono i colori più di tendenza quindi per il sandalo da cerimonia? I colori sono sempre sull'argento, l'oro, il platino che possono avere varie sfumature, colori laccati, perlati, tipo le varie tonalità dei beige e poi c'è anche chi azzarda qualche rosa tantissimo. Anche l'uomo grande protagonista, la boutique dress uomo dal 1970 veste le emozioni dei modenisi non solo. Ecco allora le proposte da cerimonia 2019, tight, smoking, abiti con gile uguali o a contrasto, linee sling fit. Per lo sposo si predilige un look curato ed elegante ma allo stesso tempo giovanile, per un gusto raffinato ma non troppo formale. Anche per il testimone l'abito è molto importante, la scelta è quella di un look giusto in grado di valorizzare la persona distinguendosi da tutti gli invitati senza però sopraffare lo sposo. Le tendenze 2019 sono su tutte le tonalità del blu, dal blu nevi al bluet, giocando con accessori con papillon e camicia composto da gemello. Il grande giorno alle porte, ora siamo davvero pronti! Il grande giorno alle porte, ora siamo davvero pronti! Il grande giorno alle porte, ora siamo davvero pronti! Il grande giorno alle porte, ora siamo arrivati! Grazie.